Grazie a tutti Convivo con loro da sé, attualmente ho un cane a casa, un leone, una tigre, un gatto qui in ufficio, penso che sia bellissimo avere uno scimpanseo in casa ma non dimentico che i cani vanno trattati da gatti, i gatti vanno trattati da topolino Cosa pensa di coloro che comprano il cappottino ai cane, che lo fanno andare nel passeggino, che dormono con lui? Per me è una barbare, no, per me fanno bene a metterlo, no, per me è una sciocchezza fortissima Fortissimo Interstimone il Geova Non sapete cos'è la novità d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà Siete ancora i doci come sempre dei poveri comunisti Turned down for what? Turned down for what?